Siamo arrivati alla seconda giornata del nostro corso, è venuto un po' il momento di tirare le fila delle riflessioni che abbiamo fatto e anche di dotarci di strumenti poi adattati a quella che è la nostra realtà organizzativa. Oggi finiremo questo momento di riflessione con un piano di azione, un vero e proprio piano di azione che i partecipanti si fanno carico di implementare o quantomeno di proporre all'interno delle loro organizzazioni per migliorare quella che è la relazione tra l'azienda e il proprio mercato di riferimento. C'è una grande curiosità, c'è un grande interesse e poi è la sensazione che ci sarebbe ancora molto da dire, ma per questo ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.